Signor Sacinto, ma che facciamo qua a Milano? Aia, ma la troschka, eh? Eh sì, è la vita, eh? Non posso male, dai. È la dolce vita, eh? Sì, 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 è la dolce vita, eh? Eh, guarda un po'. Eh, siamo fotogenici qua, eh? Quello non è che arrossisce quando lo intervisti Grazie a tutti 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 Grazie a tutti